Vai in onda, sei in onda, vai parla che me lo faccio a fondo. Buonasera a tutti. Allora, oggi chi gioca? Oggi c'è Udinese Roma. Prima cosa, scusate che sono mancato un paio di settimane, che c'ho Paolo che c'è avuto dei problemi, ci siamo incontrati, non so come è successo. Io c'ho dei problemi. C'eravo sempre da faccia. Allora, ritorniamo al nostro calendario. Allora, stasera c'è Udinese Roma. Oh, vedo che parli meglio, hai fatto un pozzo di dizione. Sì, sì, state a dizione. Qua sto giocando. La dizione. No, no la dizione. La dizione. La dizione. La dizione, no la dizione. Cominciamo a sporcare il tavolino. Sto a sporcare il tavolino. Allora, sei pronto? Udinese Roma. Guarda là, perché guardi? Io sto guardando, guarda carina. Udinese Roma. Udinese Roma. Udinese Roma. Udinese Roma è una brutta partita, ragazzi. Una brutta partita, ma. Vista Roma, l'altro giorno Roma. Per chi è brutta? La Roma. Perché? Eh, beh, è una partita. Udinese è forte in casa. No, lui ha assolti. Io sono contento che vinci a Roma. Ma ma lui, con quel freddo ci sarà nebbia. Qui faceva caldo, oggi si poteva giocare bene. Eh, ma dovrò giocare tre, a Roma non va a giocare la sera, va bene. La sera, quindi vinci a chi vinci? Allo Stato Friuli. Allo Stato Friuli. Udinese Roma. Io metterebbe magari, c'è un bel icchese. Udinese Roma. Icchese? Icchese. Una a uno. Icchese. Quindi Udinese che segna? Che segna? Una a uno. Una a uno. Una a uno. Non me voglio sbilanciare, ma io lo so. Chiudi Stato Friuli, va bene. Friuli del caffè, chiudi. Quindi, ricapitola? Udinese Roma, icchese. Sempre icchese. Icchese.